Una grande occasione di promozione del territorio. Come il Festival internazionale del Brodetto non poteva non veder coinvolto il vino e l'Istituto Marchigiano di Tutela dei Vini. Alla presentazione del festival che parte questo venerdì e si conclude domenica 9 settembre, il direttore Alberto Mazzoni. Il Brodetto è un piatto eccellente della nostra regione. Come tale va abbinato al vino eccellente della nostra regione. Noi come Istituto Marchigiano di Tutela presenteremo in questi cookie show che si svolgeranno in questi giorni tutti i migliori vini delle Marche che hanno ricevuto i tre bicchieri del Gambeo Rosso. Perciò un grande confronto tra grandi piatti e grandi vini marchigiani. E nella scelta del vino il consumatore è sempre più preparato. La gente è più preparata di noi. Quando la gente si sposta, che arriva in questi siti, ne sa più di noi. Se noi le andiamo a intervistare ci fanno scoprire delle cose che noi da 30 anni che siamo qui non le conosciamo. Perciò chi arriva capisce, chi arriva vuole apprezzare, chi arriva vuole anche pagare ma vuole essere trattato anche bene. Perciò diamogli i prodotti tipici perché sono questi l'emblema del nostro territorio. Quest'anno il Festival Internazionale del Brodetto di Fano vede una novità, il cooking show, spettacoli di cucina in cui i cuochi presenteranno al pubblico due ricette sui generis di prodetti e altre pietanze di pesce.